L'urologia pediatrica è completamente diversa dall'urologia dell'adulto, sia per le patologie che trattiamo, sia perché non possiamo comunicare direttamente col paziente, bensì dobbiamo comunicare col genitore del paziente e quindi del bambino malato. Come tutti sapete un figlio per ogni genitore è la cosa più importante in assoluto. Quando mi presento a dei genitori e dico che sono un chirurgo pediatra a volte restano sorpresi, mi chiedono non sei un urologo? In realtà l'urologia pediatrica è buona parte della chirurgia pediatrica. Noi curiamo bambini da 0 a 18 anni per patologie diverse, i piccoli hanno alcune patologie, gli adolescenti altre e non necessariamente li curiamo con un intervento chirurgico. Ecco perché la parola chirurgo non deve spaventare. Vi sorprenderò dicendo che quasi tutti i problemi urologici nel bambino nascono durante i nove mesi di gravidanza. Ecco perché oggi parleremo delle patologie che interessano i più piccoli, perché sono quelle meno conosciute, che destano più preoccupazione e quelle per cui forse c'è maggiore bisogno del nostro aiuto. Sempre di più oggigiorno riusciamo a individuare queste patologie già durante la gravidanza e riusciamo a informare i futuri genitori del problema e aiutarli nel percorso che il bambino dovrà seguire, non solo spiegando il problema ma soprattutto offrendo la soluzione al problema. Infatti la buona notizia è che il bambino con problemi urologici molto spesso guarisce completamente, con percorsi che possono essere più o meno lunghi, terapie più o meno invasive, ma il bambino con problemi urologici guarisce. Parliamo di un caso standard. Tutti sapete cosa sono le infezioni delle vie urinarie? Si ha l'idea per cui basta assumere una terapia antibiotica e si guarisce. Beh, non necessariamente. Nel bambino le infezioni delle vie urinarie sono molto invasive. I bambini hanno febbre molto alta, si disidratano facilmente, sono inappetenti, sono sonnolenti. Ecco perché nei bambini, soprattutto i più piccoli, per un'infezione delle vie urinarie spesso è necessario un ricovero in ospedale, a volte addirittura in rianimazione. E questo perché nel bambino l'infezione delle vie urinarie è sostenuta da una malformazione urologica, che è il reflusso vescico-ureterale. Che cos'è il reflusso vescico-ureterale? Tutti sapete che le urine vengono prodotte dal rene e trasportate in vescica tramite due tubicini detti ureteri. Quando le urine dalla vescica riescono a risalire verso il rene, si dice reflusso vescico-ureterale. E questo perché manca allo sbocco degli ureteri in vescica una sorta di valvola, che impedisce la risalita delle urine fino al rene. Il reflusso vescico-ureterale causa le infezioni urinarie e le infezioni urinarie possono causare i danni renali. Il nostro principale obiettivo è quello di prevenire i danni renali, anche perché, come vi ho detto, il reflusso vescico-ureterale è una di quelle patologie che si instaurano durante i nove mesi di gravidanza, per cui già alla nascita il bambino può avere dei danni renali. Come facciamo a prevenire i danni renali? Sicuramente curando il reflusso. E come si fa? Oggigiorno ci sono diverse tecniche per curare il reflusso. Per farvi capire vi dico che il reflusso viene classificato in 5 gradi. Generalizzando molto, il primo grado è quello più semplice, per cui il bambino guarisce col tempo e viene trattato somministrando al bambino una piccola dose di antibiotico quotidianamente per prevenire le infezioni urinarie e quindi danni renali. Il quinto grado è il grado più severo, quello che necessita di un intervento chirurgico, che consiste nell'aprire la vescica, staccare gli ureteri e riposizionarli in vescica con una tecnica antireflusso. Questo intervento, sebbene oggi venga fatto con tecniche mininvasive quali la chirurgia laparoscopica o robotica, resta comunque un intervento maggiore con un postoperatorio lungo e molto impegnativo per il bambino e per i genitori. Gli altri tre gradi di reflusso possono essere trattati con una tecnica endoscopica. In cistoscopia, quindi senza tagli, si introduce in vescica un ago sottilissimo, pensate del diametro di uno o due millimetri, attraverso cui andiamo a iniettare un materiale biocompatibile allo sbocco degli ureteri in vescica, andando a formare così quella sorta di valvola che abbiamo detto in questi bambini manca. Quanto materiale, dove metterlo e che tipo di materiale lo decidiamo noi. Pensate che con questa tecnica riusciamo a guarire circa l'80-90% dei bambini con reflusso vescico-retrale, che è un'ottima percentuale. Quando una famiglia si trova di fronte a questo problema, sebbene precedentemente preparata, è sempre spaesata e impaurita. Ecco perché è di fondamentale importanza il rapporto di fiducia che si staura tra i genitori e il medico. Vi racconto questa storia per farvi capire. Circa quattro mesi fa ho prescritto a una bimba di soli tre mesi un esame diagnostico che conferma la presenza del reflusso. Questo esame si chiama cistografia. Considerate che è un esame che dura pochissimi minuti. Consiste nel posizionare un vetere vescicale è attraverso questo iniettare del mezzo di contrasto, che va a simulare proprio la presenza delle urine in vescica. Se il mezzo di contrasto risale verso i reni, abbiamo la conferma del reflusso vescico-retrale. Beh, la mamma, per paura di far sottoporre una bimba così piccola, vi ricordo soli tre mesi, a un esame diagnostico, ha preferito aspettare. Durante i quattro mesi successivi la bimba ha avuto diversi episodi di infezione delle vie urinarie che hanno necessitato diversi ricoveri in ospedale. Alla fine la mamma si è convinta. Abbiamo eseguito la cistografia che ha confermato il reflusso e abbiamo trattato la bambina con la tecnica endoscopica. Adesso la bambina sta bene ed è guarita. Questo ovviamente non è per colpevolizzare i genitori. Sappiamo bene che si scatena un meccanismo di difesa verso i propri bambini, soprattutto quando sono così piccoli. Ma è per dire come in urologia pediatrica è fondamentale il rapporto di fiducia tra il medico e i genitori. Questo rapporto di fiducia si instaura sempre da ambo le parti. Il medico deve essere disponibile, deve parlare in modo chiaro ed empatico. Allo stesso modo i genitori devono riporre la massima fiducia verso il medico e saper accettare i suoi consigli. Ricordatevi, noi puntiamo sempre alla guarigione completa dei bambini e solo insieme riusciamo ad arrivare a questo obiettivo. Grazie. Grazie.